Ancora di servizio all'anagrafe di Teramo, dove una lunga fila ha atteso il turno per una carta d'identità o per dei certificati. I cittadini che erano lì oramai in fila pazientemente da moltissimo tempo non criticavano tanto l'attesa, quanto la mancanza di risposte concrete. Perché tra le molte persone sotto il caldo di agosto, diverse erano le difficoltà, anche solo a contattare telefonicamente l'ufficio. O se fortunati, qualcuno è riuscito a prendere appuntamento in un orario, ma non rispettato. Qualcuno si era preso il permesso da lavoro magari, qualcun altro magari aveva delle difficoltà fisiche e qualcun altro si era fatto accompagnare perché non automunito. Speriamo che nei prossimi giorni qualcuno abbia più fortuna, ma realmente si tratta di fortuna? L'appello è la domanda all'assessore Core e al sindaco di Teramo per poter porre rimedio a questa situazione. Sono diversi giorni che tento di chiamare qualunque numero trovo in memoria, nessuno mi risponde. Sono venuta questa mattina personalmente per cercare di fare il cambio di residenza, non solo neanche aspettando mi fanno entrare, ma addirittura mi dicono di prenotare online. So che le prenotazioni online purtroppo a stretto giro non te lo rilasciano, quindi è diventata un'odissea riuscire a contattare. Io faccio appello a chi di dovere affinché si possa in qualche modo intervenire, per tutti i cittadini e soprattutto per chi maggiormente, come dice lei, ci sono disabili, famiglie con disabili, che hanno lo stesso trattamento di chi può provvedere quantomeno a fare un minimo di fila.